Non è facile parlare dopo queste partite perché perdere contro la Roma per noi è dura, però penso che questa partita è stata persa da episodi, vari errori che abbiamo fatto e abbiamo commesso un po' tutti gli attaccanti sotto porta, c'è una brutta sconfitta, dobbiamo solo stare tranquilli perché mercoledì abbiamo un'altra partita importante da giocare, penso che non abbiamo tempo di vedere gli errori, però l'importante è che capiamo che non abbiamo fatto un'altra partita e continuiamo a lavorare e andare avanti. Pure noi davanti abbiamo sbagliato tanto perché arriviamo facilmente davanti alla porta e abbiamo fatto tanti errori, penso che questa partita quando hai queste equazioni contro queste squadre devi sfruttare al massimo, chiediamo scusa ai tifosi perché ci sono stati vicini fino alla fine e noi dobbiamo ricambiare con una vittoria.